Stasera, rientrando a casa, ho schiacciato coi piedi centinaia di lumache che avevano invaso la strada in un improvviso flusso migratorio dal cespuglio di Ginepro allo spiazzo dei Cassonetti. Stavo andando in ricognizione per controllare se ci fosse qualche nuovo tesoro depositato fra i rifiuti, pentole, vecchie piastrelle, scarpe, televisori. Le prime le ho schiacciate per caso, me ne sono accorto dallo scricchiolio che erano lumache. Poi ci ho preso gusto e ho iniziato a saltarci sopra immaginando di essere uno scimpanzè, uno scimpanzè albino che sotto stelle guardinghe celebrava uno dei tanti rituali di morte in nome di niente. Ai Cassonetti non c'era niente di buono però, soltanto uno stronzo ancora fumante di qualche balordo. Dovevano essere già passati loro. È già da un po' che in questi paraggi non si trovano più rifiuti di qualità. E io so che sono loro, che se li portano via, lassù, nello spazio. Li ho visti coi miei occhi una sera volare via come un lampo dopo aver caricato una lavatrice sul disco volante. Mamma oggi mi ha detto che era di turno per pulire la chiesa e che non era il caso che io andassi a trovarla. Mi chiedo proprio cosa ci facciano gli ufi con la nostra spazzatura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.